Simone, la tua analisi della gara? La mia analisi è che quando si vince siamo sempre contenti, quindi volevamo passare il turno fortemente perché comunque sappiamo che quando vinci poi inizia ad acquisire una mentalità vincente e quindi volevamo passare il turno per continuare a crescere. La partita è stata giocata su un livello di intensità medio-basso, però abbiamo portato a casa il risultato, quindi siamo contenti. Una bella prestazione corale della squadra, nonostante le condizioni climatiche non proprio ideali. Sì, diciamo c'era un vento abbastanza fastidioso. Poi molti di noi, come me, Luca, Scappuzzi e qualche altro ragazzo, stavano rientrando dall'infortunio, quindi non avevamo i 90 minuti nelle gambe, però si è riusciti a finire la partita e siamo contenti. Ecco appunto, 45 minuti a Monza, oggi 90, come ti senti? Ma sono ancora abbastanza lontano dalla mia migliore condizione. Mi conosce e sa che posso dare molto, ma molto di più, per cui sto lavorando per tornare in forma il prima possibile per poter dare una mano ancora di più alla squadra.